Ah, finalmente ho riposato un po' poche ore ma almeno sono sveglio Vedo che Carlo sta ancora dormendo quindi in questo caso provo un po' a darmi una pulita, una sciacquata Prima che si svegli Eh Carlo sento, ciao Carlo, sono qui, scusami, mi sono svegliato prima Sono un po' con i dolori quindi Eh io non ho dormito molto bene con tutto quel rumore di zombie Lo so, a parte anche con il pensiero del fatto che la porta sia rotta, metteva un po' di ansia Tra dolori e ansia ero un po' preoccupato Comunque credo che sia il momento di metterci in cammino La strada, dovremmo prendere un'altra strada, eviterei di andare dove abbiamo trovato quell'orda di zombie Oh c'è uno zombie Figlio di puttana Possiamo andare Se, allora controllo un attimo la mappa Se usiamo questa strada che dovremmo trovarci dall'altro lato magari troviamo meno zombie Cerca di camminare accovacciato mi raccomando E parla più basso possibile che ci possono sentire Dai che sicuramente troveremo le auto e troveremo Anche dei medicinali in caso Per me Che sicuramente non sono in ottima condizione C'è una piccola orda qui, occhio eh Non corriamo, non corriamo Non usiamo troppe le nostre energie Sono lentini sono Ok forse è meglio avanzare un po' il passo Attento, attento, non rischiare Non combattiamo, non combattiamo, evitiamo che ci sono altre orde Occhio orda lì grande Eh ci conviene correre, attento Via, 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 via Questa strada è veramente piena di zombie Non mi aspettavo che il nord Mamma mia Ah qui dove siamo arrivati? No Sono troppi Sono troppi Sì andiamo Corri, corri, corri Non ho mai visto così tanti zombie A meno La strada che ho fatto Era meno, meno preoccupante Proviamo ad entrare in una casa E tagliamo per le case, vai Magari blocchiamo i zombie in una struttura Qui è entrato qualcuno, occhio Hai sete? Sì Tranquillo poi Riusciamo sicuramente a trovare un po' di acqua Controlla un attimo la oppa Sì, sì, i zombie Ok Vieni qua, vieni qua Scavalchiamo, vieni Se riusciamo a scavalcare da qui Forse Ok, perfetto Scavalchia, tranquillo, scavalchia Sembra tranquillo qui Direi di non usare troppe forze Allora Davanti a me ci sono Una piccola orda Diamoci un'occhiata in giro Ci sono vari cadaveri a terra Devo bere un attimo Vedo dei cadaveri a terra Non sono Se sono stati appena morsi dei zombie O mangiati dei zombie Oppure qualche sopravvissuto Magari ha Riuscito Speriamoci se c'è qualche altro sopravvissuto Sì, assolutamente Non sarebbe male trovarne altri Comunque qui c'è un ordo Occhio, eh Proviamo a uccidere questo Magari se li uccidiamo una alla volta Almeno facciamo Non ci facciamo seguire Ok Prendiamo questa Prendiamoli Una alla volta ce la facciamo Prendo io l'altro Io di puttana Sono troppi Occhio, occhio Sì, è venuto Tranquillo, tranquillo Dobbiamo sistemarli Sono troppi Dobbiamo andarci Sì, sì Assolutamente Porca troia Via, via Andiamo, andiamo Ah no Ah, sono solo questi Sì, sì Ho trovato dei diamanti Eh, che cazzo vuoi farci In un mondo Di zombie con i diamanti Signor Carl È ancora vivo Quello Ok C'è un orologio digitale Se vuoi Che a meno ti dice Anche le temperature Sono molto meglio Di quelli classici Dovrebbe avercela Questa donna Cioè, vabbè Donna, tra virgolette Perché ormai Non credo che sia più umana Siamo Quasi arrivati Andiamo, vieni Ok Ci sono altri zombie Occhio, eh Sì, sì Stiamo attenti Camminiamo lontano dei zombie Ah, io sento troppo dolore Ho bisogno Di cure mediche Le ferite Si sentono Che sono un po' infette Dovremmo andare In qualche farmacia Oh, cazzo Porco Via, via, via Andiamo Corri, corri, corri Mamma, sono tantissimi Corri, corri Corri, corri Non ti preoccupare Andrà bene Andrà bene tutto Non ti preoccupare Vada, vada Non ti preoccupare Ce la faremo In qualche modo Ce la faremo Dobbiamo troppo Non ti preoccupare Dobbiamo solo trovare Un punto giusto Per scappare Sono un pochino affaticato Ma Andrà tutto bene Dobbiamo entrare In una casa Ci conviene Ci conviene attirarli In una casa E non portarli Perché siamo quasi vicini A dove dovremmo arrivare Vieni qua Vieni qua Seguimi Vediamo se riusciamo A entrare in questa casa Ci sono dei zombie morti Lì Eh, ma le case Sono tutte rotte Guardate davanti Sono tutte rotte Queste case Abbassati Abbassati Non ti far vedere Siamo attenti Questi non credo Sono stati mangiati Sembrano Quasi Cisi da una persona Speriamoci Da qualche Solo ha vissuto Nei dintorni Speriamo Sì Però Una macchina Eh, ma quella È meglio non rischiare Non rischiare Comunque vieni con me Vieni con me C'è una porta aperta C'è qua C'è un rumore Vieni, vieni Entriamo, entriamo Chiudo la finestra Chiudi la porta Adesso usciamo da dietro Vieni, vieni Proviamo ad uscire da qui Attenzione che Devo eliminare I primi vetri Un attimo E dovrebbe Un altro fuoco Vai, vai Vai, vai, vai Passo attraverso Do un'occhiata Io Ti dico Sia sicuro Puoi venire Puoi venire Ok, arriva Attento, attento Sono entrati Ho sentito rompere vetro Sì, sì Tranquillo Senti Siamo Siamo comunque Proprio dove Sono Diciamo che Mi sono un po' abituato Alla strada Non c'erano molti zombie qui Forse gli allarmi I vari allarmi Forse hanno attirato varie volte Questa città così grande È vasta È impossibile Sovrappare a vivere in due Questo è vero Ma non so se tu hai visto I telegiornali A meno di quello che parlavano Qui ho notato che C'era veramente una forza difensiva Molto alta Ma non so cosa poi sia successo Ecco, allora Siamo quasi arrivati Qua giù c'è la farmacia Facciamo attenzione Non attiriamo zombie Ok Sembra molto tranquilla questa zona Abbiamo seminato i zombie Dell'orda Sì Ma sì C'è una finestra Vediamo se riesco a aprirla Ok È a posto Entriamo di qua Entra 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 Che chiudo la tenda No Entra Un po' di difficoltà ad entrare Sono troppo Un incastro Premi Premi È Quello che ho fatto Fai Fai il tasto destro Fai il passo attraverso Faccio breve Oh Chi sei tu Hai trovato qualcuno Un altro zombie Chi sei? Chi sei Chi sei tu? Chi sei Un medico Sei un medico? Possiamo controllarti Siamo sicuri che non sei stato morso O ci stai mentendo Come possiamo sapere che sei il medico? Perché io qua lavoravo Ho anche certificato Lavoro in questa zona Puoi mostrarmelo per favore? Chi ti Dove è la partita? Ok Ecco Ok Allora Senti Noi non siamo qui in cerca di guai E ne vogliamo creare disturbo Sono qui Soltanto per delle medicine E perché ho le ferite infette Lo so che non Magari hai paura Di noi in questo momento Perché siamo due Siamo un numero maggiore Però Per favore Solo io ho bisogno di aiuto E delle cure mediche Non sto chiedendo altro Poi ce ne andiamo Ti lasciamo Dimmi Sono morso? No Non sono stato Se vuoi controllare Puoi visitare Non sono stato morso Devo mangiare Mangia tranquillo tu Ah si infetta Aspetta Un attimo che ti Pascio Un attimo Hai Degli antibiotici Hai degli antidolorifici E Del disinfettante Per favore Perché non mi sento molto bene Meno male che abbiamo trovato un medico Aspetta un attimo Sì è vero Mi sento un po' fortunato Tieni Tudiamo questa benda Vediamo cosa hai Ah È una bella lacerazione Aspetta Te la cura Ti ringrazio Cioè So che Chi è medico Solitamente è gentile Con gli altri Ma Grazie per la tua ospidità E ti giuro Ce ne andremo appena possibile Non siamo qui Per dare fastidio Sì sì Tieni Ti do Ti do anche un antidolorifico Tieni Eccolo là È un antidolorifico In cazzo senti dolore Grazie mille Dove sono Ok grazie Veramente grazie Grazie Senti Io so In cazzo avete bisogno Dai sentite Se siete dei propri ragazzi So Pur io È stato difficile Vivere qua In cazzo avete bisogno Di cure mediche Potete passare da me Eccoci con una bellissima Pubblicità di The Honor Red Non scappate che si parla Del mio Patreon E spiegheremo A cosa serve Prima di tutto Ragazzi vi mostro Subito La pagina Del mio sito Per farvi vedere Un po' come funziona Ci sono vari tipi Di abbonamenti E vi spiego adesso A cosa servirà Serve per Sono fondi Che noi useremo Perché non lavoro Da solo al mio canale Ma ci sono altre persone Tutti questi abbonamenti Tutti i sostenitori Del mio Patreon Sono soldi Che useremo Per i progetti Dei miei video Tra cui Una delle prime serie Che stiamo facendo È Project Zomboid RP Proprio questa serie Che state seguendo Ci saranno Altri progetti Che porteremo avanti Appunto Sono scritti qui Ragazzi Mettete pausa al video E date un'occhiata veloce Senza che allunghiamo Troppo il brodo L'unica cosa Che voglio dirvi Se mi supportate E riuscirete A dare una mano A tutti noi Che lavriamo A questi progetti Vi giuro Che i video Avranno sempre Una qualità Maggiore In qualsiasi Contesto Detto questo Vi auguro Una buona visione Arrivederci Non vi preoccupate Ci penso io A voler Accurarmi Ma Chi sei? Oh cazzo Chi sei? Oh un fucile Fermi Fermi Oh chi Dov'è? Chi sei? Chi sei? Oh chi sei? Mettete giù quelle armi Mettetele giù Le mettiamo giù Le mettiamo giù Ma non stiamo facendo nulla Ti giuro Ci siamo appena conosciuti Anche noi con un medico Lui è un medico Per favore non fare cazzate Non troveremo un altro medico Abbasso quell'arma L'abbasso L'abbasso Chi siete? Ho posato l'arma Ho posato l'arma Sono senza arma Non mi fido molto Siete in troppi Ma noi Ti giuro Noi ci siamo appena conosciuti Io e lui Lui si chiama Vedi lui Carlo Il dottore non so nemmeno come si chiama Ci siamo conosciuti anche noi da un giorno Non siamo qui in cerca di guai Siamo arrivati qui solo per prendere le medicine Per me perché mi sono ferito Ma non sono stato morso E il medico mi ha curato Ti giuro Noi non conosciamo nemmeno il medico Abbiamo solo confermato Ci ha mostrato il tesserino Che lui lavorava in questa clinica Sì Ok Cioè Credo Sì sì Lavoro in questa clinica Lavoro Ok Mi hanno esportato via dall'ospedale Ok Dopo credo che ci presentiamo Possiamo stare tranquilli Senza che ci punti quell'arma addossa Va bene va bene Sei abbastanza convincente Su cosa siamo convincenti Che non siete dei malavitosi Vabbè Almeno questo sicuramente Mi sembra anche ovvio Visto che abbiamo solo delle mazze da baseball E siamo qui Manco per miracolo forse Comunque Ho una domanda medico Manteniamo le distanze Con Te con il fucile So che non ti fidi Quindi Siamo lontani da te E siamo tranquilli qui Voglio solo conoscere il medico Medico hai detto che lavoravi in un ospedale Giusto? Eh sì sì Era in un'altra parte della città Ok Come mai Cioè sei in questa clinica Cioè là avevi due lavori? Come No Prima lavoravo dentro un ospedale Solo che poi mi hanno Dall'ospedale partito Dalla pandemia E mi hanno esportato dentro un logon più sicuro Medici Quella Quella Meno più Meno importante Quella che erano di basso livello Quindi quelli là di alto livello Stai portati tutti all'ospedale Per Trovare una cuda Ah quindi tu sei un medico alle prime armi Quanti anni hai? Sì Se posso permettermi di chiedere Eh Ne ho venti Ah ok Quindi stai facendo il tirocinio Cioè sei da poco medico Sì sì da poco Mi sono L'hanno scorso E ho trovato Lavoro giusto in tempo Tipo Quattro Due mesi fa Ok va bene va bene Io Allora guarda A me dico Io ti chiedo scusa Prima di tutto Che siamo entrati in casa tua Scusa Senza permesso Ok Quindi è la prima cosa che ti chiediamo Scusa Per farti capire che non siamo qui Per brutte intenzioni Vogliamo solo chiederti un favore E almeno parlare con te Tu attualmente Hai un gruppo Cioè in questo ospedale Siete più di una persona Non lo so Posso in realtà Perché eravamo Sono stato esportato io Da solo in questa clinica Non so se gli altri due sono andati Questo in altre cliniche In altre città In altre zone A molti medici Che adesso sono morti Perché la pandemia è scoppiata Nell'ospedale Dove lavoravo io Ma in che senso La pandemia è scoppiata Cioè i primi casi Sono arrivati anche nel vostro ospedale Allora praticamente Eravamo Stavo lavorando In questo ospedale Non ero tanto bravo Non ero tanto bravo Sapevo già Le pari malattie Che si dovevano Intrigere verso Gli altri Ero estremamente Sì poi sono arrivati Dei pazienti Che avevano Praticamente Che avevano Erano molto Sembrava che avevano La rabbia Che erano molto aggressivi Verso gli altri Alcuni Usciva sangue dagli occhi E addirittura Avevano atteggiamenti Che sembravano Non umani Quindi ti hai visto Come è scoppiata Questa cosa Quindi più Sì effettivamente Hai visto praticamente Come è nata la pandemia Sì sì Mi sono stato esportato Qualche giorno Prima che dalla tv Uscisse Quella l'unico Dove l'ospedale Fu Quamente distrutto Da quelle bestie Che ormai Che sono Zombie Io li chiamo Per ora Li ho chiamati Azzannatori Ma forse Meglio chiamarli Zombie Sì sono Spente Senza cervello Attaccano tutti Quelli che vedono Pure animali Cervi Attaccano tutti Ma Non puoi fermarli Sola chiedo una cosa Giusto L'ultima informazione Poi Non vogliamo Allungare troppo Il discorso Perché effettivamente Ci siamo appena Conosciuti E questa Penso che sia Un'informazione Importante Il fatto che Tu abbia Queste Hai vissuto La prima fase Della pandemia Quindi ti faccio Una domanda Forse anche Sciocca Potrebbe esistere Una cura Non si sa Già quando All'ospedale Davavamo Antidolorifeci Metabloccanti Li curavamo Li curavamo Ma non ha funzionato No C'era sempre Questo Fatto E quando Abbiamo scoperto Che da poco Da quando Ho scoperto La pandemia C'erano Prendi militari Trovavamo Non sono bene Di queste parti Sono di un'altra Città Però Allora Guarda Io te lo dico Perché Io Nella vita Avevo un obiettivo E John Ho parlato con lui Intanto Posso conoscere Il tuo nome Io mi chiamo John Io mi chiamo Flavio Rossi Non sono americano Sono italiano Ah Sei venuto in America Come mai Hai scelto venire qui Infatti Dall'inglese Sembrava un po' Rispetto a noi L'accento Un po' più basso Ecco Immaginavo Che non fossi di qui Perché Vente Sono venuto qua A lavorare in America Perché A parte che Si poteva trovare più lavoro Ma anche perché Volevo completare I miei studi Al meglio L'ho avuto Appunto Nella mia accademia La di Scientifico Era il migliore Qua c'è La classe Ah ecco Ah guarda Io ti chiedo Un'altra cosa Immagino che tu Non abbia un gruppo E visto che devi andare A nord Cosa ne pensi Non dico di unirti Al nostro gruppo Ma cosa ne pensi Di collaborare insieme E unirti a noi Almeno per questo viaggio Poi se tu hai Altre obiettive Non vuoi rimanere con noi Posso capirlo assolutamente Senti Io direi di no Però Senti Qua il mondo Sta andando in rovina Non posso mai Vivere da solo L'avrei bisogno Di compagni Quindi secondo me La mia scelta migliore Sarebbe stare con voi Perché avrei Meno possibilità Di morire Beh anche questo C'è da dire Che noi Anche noi Cerchiamo appunto Altre persone vive Per unirci E non Rimanere soli Perché sappiamo bene Che da soli Possiamo morire Ma dove è l'altra Dove è l'altra persona Ci siamo meglio Dove è l'altra persona Dove è l'altra persona Non lo so Che dove sei andato Ah comunque Guarda io Vivo qua C'è un piano di sopra Dove è la casa Ah si Trovate qua Ah è qui Non ti abbiamo visto più Quindi tu hai un piano sopra Possiamo permetterci Di riposare con te Sì sì certo Certo Potete venire Scusami Ho sbagliato Io resterò qui Fino per la notte Adesso Ma Mi sembri un po' diffidente Non hai ancora fiducia di noi Vero Immagino Guarda noi Trovami tre persone davanti Così Ma stiamo parlando con il medico E ci stiamo conoscendo adesso Pensi che sappiamo queste cose Posso capire di me Il mio compare qui vicino Ma Il medico penso che stia dicendo la verità E penso che la verità È abbastanza tranquillo Però non mi guido Va bene Va bene Allora Fai come credi che sia meglio Se hai bisogno di aiuto Chiamaci Va bene Oh sentite Ma Scusami Quindi hai Del disinfettante Per favore Per le ferite No Sì ne ho altre due Solo che però I rifornimenti Di Di fasciature Bende Sono finite In caso voi ne avete Ah ok No purtroppo ne ho Veramente poche Ho visto le ferite Ho controllato la ferita Mi sembra che sia Guida puoi controllare Tu per favore Sì certo Ho dato un'occhiata veloce Azzando la benda Ma non lo so Se sono curate Sono Sono curate No secondo me No guarda che il disinfettante Si sta veramente Curando Quindi Devi solo aspettare Il collo Non ti hanno morso Fortunatamente Perché se Se ti avessero mostro T'arrebbe stata La tua fine Perché Un morso L'infezione Il virus Aspetta Solo tramite Dei morsi Ah ok Questa è una cosa Molto importante È stato molto fortunato Tranquilli Non diventerà uno Come allora No 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 Sta tranquillo Comunque scusate Essendo che Vorrei sapere un po' Il tuo nome Scusate Come si chiama Io Carlo Io mi chiamo John Come ho detto prima Ma credo che forse Non l'hai sentito No 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 Ci ho capito Ma che devo anche I cognomi Scusate Ah io mi chiamo Snow Io John Snow Carlo Carlo Vabbè Io sono Flavio Rossi Vengo da Milano Da Milano A direttora Cioè Milano cosa sarebbe Scusami Non sono mai stato In Italia Eh si trova In fronte Nel nord d'Italia È una bella città Soprattutto il Duomo Ah ok Va bene Interessante Peccato che Probabilmente Non credo che Vedremo l'Italia Per un bel po' Eh ma Non ci sa neanche Che la vedremo Beh Ah vero Io Senti Di te mi fido Dell'altro ragazzo Giù non ho tanta fiducia Perché non mi sembra Che si fida di noi Senza che lo sappia lui Siamo da soli noi tre Io ho Due chiavi di due auto Che Sono proprio qui Di fronte al supermercato Ci servirebbe benzina Non è che sto dicendo Lasciamo da parte quel ragazzo Voglio che venga con noi Però se lui non si fida di noi Perché dovremmo noi Non so Ma La cosa più importante Sai cos'è Che Se lui Lì è un fucile Ma poi lui Che ne potresti sapere Forse non è malavitoso Cosa significa malavitoso Scusami Non è un termine Che non fa una Che non è Che non è Un criminale Diciamo così Penso che qui Nessuno Sia criminale Credo che siamo Tutti alla fine Dei sopravvissuti Boh Proviamo a parlare Con lui Allora Tu dici che gli posso dare fiducia Ragazzi Parliamo chiaramente Possiamo fidarci Sì ti faccio un attimo Di Dirti la benda Sì sì certo Puoi controllare Tutte le ferite Ah perché ora ti metto Un pochino di disinfettante Altro sul collo Mi sembra Ah di una piccola lacerazione Non è niente Eh la ferita è ok Semplicemente Non sento più nemmeno dolore Come prima Guarda ora ti metto Un pochino straccio Aspetta E ora ti bendo il collo L'altra ferita Non so se è guarita Ma spero di sì No l'altra sicuramente Guarirà Perché tu mi sono disinfettante Ah ok Grazie mille Si sta facendo dolore Guarda se senti dolore Ti posso fare anche Qualche antidollore Si sta facendo davvero Un po' tardi ragazzi Cosa dite? Aspettiamo la notte Prima di andare Possiamo riposare qua Possiamo anche riposare Noi qui Intanto cosa ne dici Se parliamo con l'altro ragazzo Volete che ci fidiamo Diamo fiducia Andiamo a vedere Si prendi queste pillole Ah già ce le ho Già ce le ho Me le avevi date prima Vado Credo che sia meglio Che hai tu Il controllo dei medicinali A questo punto Lasciamo Sì lasciamo Il medicino del tempo Io Chiamo l'altro ragazzo Vediamo cosa ne pensa Allora Che facciamo? Fiducia o no? Eh ragazza E doveva Ti faccio fidarci ragazzi Vedete con me Ma che ha spento le luci? Eh meglio con le luci spente I zombie non ci vedono Dov'è l'altro ragazzo? Vedete molto esperienza Da quanto tempo Che siete fuori Da solo? No Io Da un bel po' Fai conto che Ormai sono rimasto da solo Finchè non ho trovato voi due Da un bel po' Camminavo e vagavo da solo L'altro ragazzo Se n'è andato Aveva detto che era fuori Per controllare Eh forse se n'è andato Perché non ci fidava di noi Potrebbe essere Guarda sentite Che fai qua? È dentro ragazzi Venite Venite da questa città Per caso Scusate se ve lo chiedo No io non sono di questa città Vengo proprio da un altro stato Non appartengo a questo stato E ho viaggiato veramente tanto E posso assicurarvi Che qui la situazione È molto meno critica Rispetto alle altre Dove Da dove vengo io Essendo un posto molto Le città sono più grandi Io vengo dalla Dalla zona di New York Quindi Immaginatevi un gran posto Che casino c'era Non ero proprio del New York Ma un po' più periferia Però ragazzi È stato veramente orribile Comunque Senti Fuciliere Non so come ti chiami Mi chiamo Eustachio Eustachio Da dove vieni? Io vivevo In una piccola Casa nel bosco Con mio padre In una città qui vicino Quindi sei di questa città Sei nato qui? No no Non ci sono mai stato In questa città No io dico Scusami Riformulo la domanda Perché magari è troppo vaga Intendevo Tu sei nato in America O un altro stato Sì sono di qua Ah ok sei americano Perché mi sento io Un po' straniero In questo momento Mi so I loro sono italiani Entrambi Di origini italiane A meno Comunque Senti Noi vogliamo parlarti Chiaramente Noi Parlo per me Il mio compare a fianco Non per il medico Perché il medico È anche lui esterno Lui dice E immagino che per ora Voglio tenere le riservati E non chiedere le riservati Io te lo dico Sono qui perché voglio Formare un gruppo E voglio sopravvivere Con gli altri Voglio creare una comunità E salvare più persone possibile Qui con me invece Carlo Lì è un meccanico E anche Suo padre è un meccanico E sta cercando suo padre E appunto dove Ha detto il medico Andare a nord Anche noi dobbiamo Dirigerci a nord E lavori Cosa ha tuo padre Non mi avevi detto questo Ha un negozio suo Ma è vostro l'officina Sì sì Oh potremmo effettivamente Anche controllare macchine E riparare Cosa ne pensate Certo Sembra un buon piano Che ne dite No me ne voglio andare Quindi ragazzi Cosa ne dite Anche se per ora Nessuno di noi si fida Cioè Almeno voi Io lo parlerò A buon cuore Io voglio fidarmi Perché voglio salvare Più vite possibile Questo è il mio obiettivo Voglio fare qualcosa Per salvare l'umanità Detto questo Che ne dite voi Proseguiamo questo viaggio insieme Vabbè io sì ci sto Perché Non abbiamo possibilità di vivere Se siamo da soli O se stanno in un gruppo Abbiamo più possibilità di vivere Tu invece Carlo Certo Per me va bene Invece tu Eustachio Anche per me Puoi darci un po' di fiducia Sì Tanto sei tu quello col fucile No? Eh esatto Bene dai Allora prima di iniziare Il prossimo viaggio Credo sia meglio Riposare Riposare un po' Sì Allora prima di iniziare 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 Grazie.